Altri 80 posti di lavoro a rischio in Molise, si tratta degli ex LSU che disbrigano il servizio di pulizia nelle scuole della regione. Un destino beffardo e allo stesso tempo drammatico il loro. Erano tutti LSU dipendenti dei comuni ma scelsero di passare alle scuole con la lusinga della stabilizzazione nel ministero della pubblica istruzione. E' finita che sono passati tutti in carico ad una società privata che ha vinto l'appalto nazionale della pulizia delle scuole in tutta Italia. Una società che ora è cambiata. Si tratta di una grande cooperativa nazionale che ora per la spending review vuole tagliare ulteriormente ore e retribuzioni. In pratica spingendo migliaia di persone in tutta Italia sulla strada della disperazione. Si tratta infatti di cinquantenni e sessantenni che ancora non possono neanche andare in pensione. Se fossero rimasti in carico ai comuni ora sarebbero dipendenti comunali. Hanno avuto fiducia sbagliando nel ministero della pubblica istruzione che ha esternalizzato il loro lavoro. Per questo per giovedì e venerdì sono state organizzate due giornate di sciopero nazionale ma l'unione sindacale di base del Molise guidata da Sergio Calce che ha organizzato l'incontro di Isernia chiede anche l'intervento della regione che potrebbe fare tanto in favore degli 80 LSU delle scuole molisane. La regione sicuramente può avere una funzione di pressione e di diciamo spinta nei confronti del governo nazionale. In Parlamento ci sono proposte di legge per la vera stabilizzazione di questi lavoratori e la regione, i politici della regione, i partiti politici della regione devono far sentire il disagio in cui rischiano di finire famiglie in un periodo assolutamente di crisi. Non solo, la regione può dire se a fronte di questa cosa comunque intende sostenere il reddito di questi lavoratori oppure no. Noi riteniamo che oggi si possano assumere senza dover ricorrere ad ammortizzatori sociali ma se domani il governo non decide, i salari vengono dimezzati e l'attività lavorativa non sarà più su 12 mesi ma addirittura su 9, beh forse la regione potrebbe dare anche un contributo economico al sostegno di queste famiglie.